e grande e grazie grazie al anche grande ma grazie quindi al nostro autofocus quindi abbiamo un bellissimo colpo d'occhio qui sulla terrazza marconi di nome di fatto perché questa è proprio la cosiddetta terrazza marconi di senigallia siamo nell'albergo di massima categoria come vedete siamo aperti decisamente su tre lati ma anche di più se vogliamo iniziamo veramente 360 gradi e sono qui di primo mattino la domenica mattina questa bella giornata appunto annunciata anche dal meteo confermata anche come si può vedere dall'immagine sono con marco il responsabile delle colazioni marco al secolo così non lo confondiamo marco maglieri marco maglieri ecco che ci occupa quindi del breakfast che viene seguito dall'albergo quindi siamo quante stelle quattro stelle su pirio si offre le colazioni nonostante il ristorante quindi a pranzo a cena e anche in spiaggia sia curato come da sempre praticamente da un senso invece le colazioni sono praticamente dell'hotel esatto esatto quindi appena terminata la colazione è 10 e 30 anche se ci sono sempre sono i ritardatari vedo di qui c'è un gran movimento perché la terrazza marconi poi convive anche con il ristorante il ristorante che è un ristorante aperto a pranzo per il momento pranzo poi sarà solo cena ecco infatti ricordavo ecco quindi con queste restrizioni come dire c'è anche questa possibilità del pranzo se il pranzo avendo posto fuori ci aiuta moltissimo sia frasù che anche di sotto nel piano tesa bene bene quindi quindi l'offerta qui dalla vostra colazione il vostro breakfast abbiamo siamo di accontentare è tornato il buffet mi sembra di capire no diamo una mano ecco quindi è un buffet assistito è un buffet assistito adesso per queste nuove regole norme della covid cioè continuano sì sì oltre all'anno scorso anche quest'anno aspettiamo che ci tolgono questa restrizione si è assistito si cerca di dare sempre il servizio migliore poi ritornerà tutto alla normalità chiaramente qui vengono gli alloggiati quindi ecco hanno modo di stare all'interno ma in realtà siamo comunque in regola anche eventualmente se dovesse capitare qualcuno appunto da fuori perché chiaramente l'apertura alla terrazza marconi non manca decisamente quindi cosa cosa troviamo quindi a scelta nel abbiamo dal reparto dolce che viene fatto tutto interamente dal nostro forno di fiducia tutti i dolci tutti freschi possiamo inquadrare abbiamo questa qua questa è una torta con miel con con lamponi e mandorle poi avevamo anche torte di mele abbiamo un po tutti i giorni i dolci tipici poi abbiamo una bella varietà di frutta che adesso per il momento la stagione ci dà solo questo tipo di frutta poi sarà la pesca e bicocche e cuccomori tutto quello che poi abbiamo i formaggi nostrani cerchiamo di comunque valorizzare il territorio formaggi nostrani e salumi dal ciuscolo al salame fabriano poi ananas fresca amiglione fresco i vari semi che vanno molto di moda questi ultimi anni e poi abbiamo un reparto salato in cui abbiamo anche abbiamo correnti salati tutto quello che comunque possiamo accontentare il cliente abbiamo le uova che facciamo espressa al momento al momento che il cliente ce lo chiede noi facciamo lui qui dentro nel nostro office il vostro ufficio il vostro ufficio c'era un ufficino piccolino ma veramente ecco bene bene questa è la terrazza marconi appunto che mi sembra il locale decisamente del momento visto appunto le restrizioni e quindi chiaramente aperto poi per tutte le altre attività anche gli esterni certo quindi si può quindi non solo per notare avere diritto anche ai servizi di spa e per quanto concerne la spiaggia perché lei adesso avrebbe finito adesso il suo servizio è quasi finito dopo il tempo di risistemare doppio sono posto così io faccio lei torna domani io faccio tutta la preparazione lei non va in spiaggia con gli ombrelloni ma là c'è tutto un altro staff e quindi andiamo a vedere qui da Senigallia